Se in piazza ci stanno i nobbi nubi, non è una cosa diversa, è la foresta di scienio dal contrario. Sostanzialmente volete fare una guerra tra i giovani e gli anziani e non raccontate la verità. Nelle proposte che noi abbiamo presentato c'è scritto che chiediamo una pensione per i giovani, una pensione di garanzia, perché i lavori oggi sono precari, i ragazzi entrano tardi al lavoro. Ho perso la vita in un incidente e allora se noi siamo per dare... Ci raccontate ogni volta che bisogna prestare attenzione alle fasce rette, a chi rinno indietro. Sui giovani nessuna risposta. E quando abbiamo parlato delle donne, ci avete raccontato che c'è l'opzione donna. E avete prolungato l'età pensionabile di due anni. Se non fosse stato per noi sarebbero state ancora penalizzate di più e continuano ad essere penalizzate. Continueremo ad avere queste rivendicazioni, continueremo a richiederlo anche se in piazza, se anche in piazza, se è necessario. E lo faremo insieme, perché abbiamo il tovere di cambiare questo paese. Grazie e buona volta a tutti! Grazie a tutti!